Ben trovati con questa edizione del Tg Max. C'è la cronaca in apertura per un'imponente operazione antidroga. Sono accusate di aver costituito un'ampia associazione a delinquere composta da almeno 19 persone per gestire un traffico internazionale di eroina, ascisce e marihuana. Le 8 persone arrestate oggi dagli uomini del GICO e del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza dell'Aquila, supportati dai colleghi del SCICO, del Servizio Centrale Investigazione e Criminalità Organizzata di Roma. Complessivamente sono stati sequestrati 115 kg di ascisce, 107 di marihuana per un valore di oltre 3 milioni di euro. A Lanciano sarà operata tra pochi giorni la signora caduta a Corso Roma e soccorsa dopo 40 minuti da un'ambulanza proveniente da Atissa. Preoccupate per i ritardi dei soccorsi, si dicono al Tg Max cittadini ed esercenti. Sentiamo. Cade qui, tra questi paletti, nel centro storico a Lanciano e aspetta l'ambulanza per almeno 40 minuti. E' quanto accaduto alla signora Avì in Corso Roma, mentre si recava a trovare la cugina in negozio. Ora è ricoverata, un omero rotto e tra pochi giorni sarà operata al Renzetti. Il racconto della signora Carmela. E' arrivata l'automulanza della testa dopo un'ora. E lei non l'abbiamo potuto toccare perché non sapevamo che cosa si era rotto. Poi è arrivata l'automulanza, ma senza un medico dalla testa. Senza un medico. Tra i testimoni a chiamare i soccorsi la collega del tempo, Elisabetta Gaeta. La donna è rimasta per più di 40 minuti, proprio cronometrati all'orologio, a terra, senza che nessuno avesse, diciamo, il coraggio di poterla spostare in attesa dei soccorsi che non arrivavano perché non si conoscevano le reali condizioni fisiche. La signora è in stato di coscienza, però si lamentava. Quindi c'era chi aveva fatto l'ipotesi di un infarto, di un malore. Io stessa, ma anche altri esercenti e passanti, oltre che residenti di Corso Roma, abbiamo chiamato le autorità competenti, sia il 118, il 112. Però purtroppo il problema è la carenza dei mezzi. Anche perché ricordiamo che una delle pecche del nostro ospedale è che il servizio delle autoambulanze viene esternalizzato alla Croce Rossa e alla Croce Gialla. Una situazione scandalosa? Altro che scandalosa. Non so, uno si deve morire, io non lo so. E qua non abbiamo assistenza. Voltiamo pagina, Vinitaly, inaugurazione oggi del Salone Internazionale del Vino con il ministro Saverio Romano, il quale ha detto che è necessario pensare tanto all'export quanto al mercato nazionale. La riduzione dei consumi va affrontata attraverso una comunicazione mirata. Bisogna ricordare che il vino è prodotto tradizionale italiano. Vediamo. Vinitaly 2011, sempre una grande festa ma sempre un grande momento di riflessione. Quest'anno sono i 150 dell'Unità d'Italia ed ecco qui l'omaggio del Vinitaly a tutta la penisola. Si tratta della bottiglia dell'Unità d'Italia, dunque un vino composto da 40 vitigni autoctoni per realizzare un vino rosso e un vino bianco che siano la summa delle 20 regioni del bel paese. Oggi queste due bottiglie di vino, chiaramente segnate dal tappo in rosso e in verde, hanno partecipato, per dire così, alla conferenza stampa di presentazione dell'inaugurazione della 45esima edizione del Vinitaly. La riflessione è quella di un consumo di circa il 20% negli ultimi dieci anni di vino in Italia, mentre aumentano in modo esponenziale le esportazioni che ridanno effervescenza a tutto il movimento. Ovviamente presente il Ministro delle Politiche Agricole romano che abbiamo avvicinato. Ho sempre detto che il nostro paese ha fatto l'unità attraverso l'agricoltura, ma con la diversità dei nostri territori, che sono una grande ricchezza. Del resto non verrebbe, secondo me, bene un Amarone a Vittoria, invece un Cerasuolo è straordinario. Anche un abruzzese ministro, terra a forte vocazione agricola, che ha bisogno di sostegno. L'ho detto a poc'anzi, in Abruzzo dobbiamo fare uno sforzo in più, perché la tragedia vissuta agli abruzzesi è una tragedia nazionale e il paese si deve stringere ancora di più attorno a questa magnifica regione. Ci venga trovato? Senz'altro. Vinitaly con i suoi 4.000 espositori provenienti da tutto il mondo e che richiama in media ogni anno oltre 150.000 visitatori specializzati, di cui più di un terzo da 114 paesi. Immostra tutto l'universo enologico in rappresentanza di un settore che vale complessivamente per il nostro paese 13 miliardi e mezzo di euro di fatturato, a cui si aggiungono ulteriori 2 miliardi di indotto, e che occupa oltre un milione di addetti nelle 770.000 aziende sparse su tutto il territorio nazionale. La tendenza, mentre l'export italiano cresce non solo in America e in Germania, mercati tradizionali, ma anche in Oriente, prosegue però il calo dei consumi interni, dai 100 litri pro capite degli anni 70 ai 45 litri del 2007, fino ai circa 40 litri a testa di oggi. Un trend destinato, secondo le previsioni, a diminuire ulteriormente entro il 2015. E poi il Gran Vinitaly 2011, il concorso internazionale destinato al miglior produttore di vino del mondo, che quest'anno è udite udite israeliano. Dunque il premio alla cantina Golan Ewitz Winery, realtà relativamente giovane, fondata nel 1983 a Katsrin in Israele, la cantina ha convinto i 105 giurati, scelti fra i più autorevoli enologi e giornalisti di settore di tutto il mondo, affermandosi su una concorrenza di 3.720 bottiglie, presentate da più di mille aziende partecipanti da 30 paesi del mondo. Ricco Bottino di premi per l'Abruzzo in gara a Verona, con 9 medaglie e 100 gran menzioni. Premiata anche la qualità del nostro olio d'oliva al concorso Soldoro, le aziende olearie abruzzesi hanno riportato 4 gran menzioni. A Vinitaly e Sol, note di piacere, con l'Abruzzo che partecipa con 80 aziende vitivinicole e 27 aziende olearie, coordinate da Assessorato all'Agricoltura dell'Abruzzo, Arsa, centro delle Camere di Commercio, in collaborazione con l'Enoteca regionale. L'Abruzzo presenta la sua nuova geografia produttiva che vede l'esordio di nuove tipologie di vino che esaltano non solo le particolarità dei tre vini doc più conosciuti, Montepulciano, Cerasuolo e Trebbiano, ma valorizzano nuove denominazioni sotto zone antichi vitigni riscoperti dopo un lungo lavoro di sperimentazione. Una partecipazione che si apre sotto i migliori auspici. Infatti al concorso enologico internazionale l'Abruzzo ha conquistato 10 medaglie, 2 gran medaglia d'oro, 4 d'oro, 2 d'argento e 2 di bronzo. Ben 101 le gran menzioni. L'assessore all'agricoltura Mauro Febbo. Abruzzo, presente un settore che sta ritrovando graduale slancio o no? Ma notevolmente un settore che oramai è in fortissima espansione. Prima siamo stati all'inaugurazione con il ministro che ha dato alcuni dati importanti. Mi sembra che l'Abruzzo non solo ha gli stessi dati ma numericamente molto più importanti. se a livello nazionale le esportazioni sono aumentate del 12%, in Abruzzo sono di 5 punti in più, circa il 17%. Ma soprattutto credo che stiamo continuando a crescere a 360 gradi. Per la prima volta i bianchi e i cerasuoli ricevono più premi rispetto al nostro Montepulciano. Per la prima volta in assoluto un nostro vino spumante viene premiato e non era mai successo in 45 anni. Io credo di poter dire che c'è un altro successo importante. Dire che aver vinto 10 medaglie può non significare niente ma pensare che queste 10 medaglie rappresentano ben il 15% di tutto il medagliere rispetto a 6.120 aziende che partecipano beh, credo che l'Abruzzo qualcosa stia facendo. L'Abruzzo del vino è stato premiato in tutte le principali tipologie nei vini bianchi con una medaglia d'oro e 27 gran menzioni nei rossi con una gran medaglia d'oro, una d'oro, una d'argento e una di bronzo in diverse categorie e 52 gran menzioni mentre nella categoria rosati ancora una volta il Cerasolo d'Abruzzo conquista tutte le medaglie a disposizione. La gran medaglia d'oro alla Orsogna Cantine. Sentiamo. Vincere un gran premio è il top vincere successivamente anche un'altra medaglia d'oro è ancora più gradito ma la soddisfazione maggiore mia è quella che complessivamente la nostra cooperativa è stata premiata come la migliore realtà vitivinicola abruzzese. E allora dal buon vino abruzzese all'abuso di alcol guida in stato di ebrezza, provincia di Chieti e tribunale di Lanciano sottoscrivono un'intesa per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva. Sentiamo. La provincia di Chieti ha sottoscritto oggi una convenzione con il tribunale di Lanciano primo caso per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva in caso di condanne per guida in stato di ebrezza. Lunedì prossimo è prevista la firma di un'analoga convenzione con il tribunale di Vasto a seguire con quello di Chieti. La provincia farà prestare lavoro nel numero di 10 unità l'anno per un minimo di 10 giorni, un massimo di 6 mesi, non retribuiti ma coperti da assicurazione. Le persone punite da condanna presteranno servizio in tutte le attività di supporto ai servizi provinciali per politiche sociali o promozione culturale e turistica, tutela ambientale, squadre operai per spazzamento strade, pulizia aree e verdi, servizi di viabilità. I benefici saranno la revoca della confisca dell'auto, il dimezzamento della sospensione della patente di guida e stinzione della pena se il lavoro è stato proficuo. È un'iniziativa di grande valenza sociale, ha detto il presidente della provincia di Chieti, Enrico Di Giuseppe Antonio. Ci sarà la possibilità successivamente, anche da parte dei comuni, che abbiamo sollecitato in Sarsenso, a sottoscrivere questa convenzione e a dare la possibilità di svolgere lavori di pubblica utilità socialmente utili a chi viene appunto condannato per questo reato. Il presidente del Tribunale, Ciro Riviezzo, ha precisato che queste convenzioni sono piccoliate a dimostrazione della collaborazione fra istituzioni. Aiutare le persone che sbagliano a comprendere il loro e l'ore e quindi a posto di dargli una pena afflittiva come il carcere, costringerli con loro accordo sempre, a un lavoro socialmente utile in favore appunto, che può essere in favore degli anziani, in favore dei bambini disadattati, in favore dei comunità di tossicodipendenti, in via di recupero e iniziative di questo genere. Poi per far comprendere alle persone che sono cadute in un errore il valore sociale della loro presenza all'interno di una comunità. Questo mi sembra che dia attuazione al precetto costituzionale della pena come forma di rieducazione. A Chieti i titolari di Parco Paglia si difendono dalle accuse dell'imprenditore salito sul totem e dicono siamo noi la parte lesa. Sentiamo. Basta strumentalizzazioni, siamo noi la parte lesa. È quanto dichiara il presidente della società Parco Paglia S.P.A. per rispondere alla plateale protesta messa in atto da Valterio D'Amico, destinatario di un'ordinanza di sfratto da un capannone che da qualche giorno si è barricato su un totem di 10 metri. A detta del presidente Primavera, il signor D'Amico, che da tre anni occupa abusivamente quel capannone, non ha mai ricevuto vessazioni, nonostante continui mancati pagamenti delle spese a lui competenti. Io le accuse di D'Amico non le tolero, non le replico. Qui c'è una sentenza del Tribunale che noi abbiamo una giustizia e la giustizia ha preso atto di quello che è successo, ha emesso una sentenza e quindi andiamo avanti così e non ho nulla da dire oltre. Il presidente Primavera ha poi ricostruito le fasi salienti della realizzazione dell'area interessata. Quest'area, come tutti ben sanno, era un'area abbandonata. Noi abbiamo costruito diversi capannoni, abbiamo portato oltre 35 aziende con 850 dipendenti diretti e 500 indiretti. Abbiamo costruito questo hotel che ci stiamo, l'hotel a 20 dipendenti, è diventato il punto di riferimento della città di Chieti. Ci teniamo a precisare che abbiamo portato estimatissime aziende del terziario artigianale che tutti correttamente hanno fatto il loro dovere contrattuale e quindi hanno fatto l'accollo del leasing o mutui o quant'altro. ci teniamo a ribadire che il parco sta andando avanti, sta crescendo perché il parco piace e quindi stiamo facendo l'ulteriore ampliamento e andiamo avanti. A Pescara il gruppo consigliare del Partito Democratico denuncia degrado nel quartiere Porta Nuova. Vediamo. Siringhe, cestini dell'immondizia di Velti, lampioni in frantumi. E' questo lo scenario di degrado nel quale versa il quartiere Porta Nuova di Pescara. L'allarme è stato lanciato oggi dal gruppo consigliare del PD unitamente alla circoscrizione Porta Nuova che ha dato voce alle numerose denunce partite dagli stessi residenti. In particolare sono due le zone critiche messe in risalto dal capogruppo del PD al Consiglio Comunale, Moreno di Pietrantonio. Noi siamo qui per fare come facciamo sempre il nostro dovere che è quello della denuncia di quello che non va in città, raccogliamo le istanze dei cittadini sul degrado. Il quartiere di Porta Nuova è particolarmente degradato, siamo venuti qui in Piazza dei Grui e avete visto qual è la situazione di abbandono totale da parte di questa amministrazione e poi in un altro punto della città è via Stradonetto dove c'è stato un incidente, è stata investita una donna in una strada che è stata di nuovo rimessa a doppio senso da parte di questa amministrazione, una strada assolutamente insicura, priva di norme di sicurezza e noi chiediamo a gran voce che venga ripristinato il senso unico, soprattutto per dare la possibilità alle persone anziane di poter riuscire e di non essere sequestrate in casa. Noi abbiamo fatto già delle istanze ma da lunedì ci sarà la discussione sul piano triennale dell'opera pubblica dove porteremo queste problematiche, faremo una dura battaglia affinché venga recepito questo tipo di intervento, questi lavori devono essere realizzati altrimenti l'ostruzionismo sarà totale. Anche perché attualmente non c'è nessun programma di manutenzione nel piano triennale. Sì, non c'è nessun programma di manutenzione da due anni in questa città perché è sotto gli occhi di tutti, guardate questa fontana completamente abbandonata è diventata un ricettacolo di immondizia. Insomma la città è abbandonata, la città è in ginocchio, noi vogliamo che riparta, noi vogliamo soprattutto che venga curata. E a Chieti nel Palazzo Provinciale è in mostra l'integrazione, la storia dell'integrazione europea, resterà aperta fino al 15 aprile. La conoscenza dei valori e la consapevolezza di ciò che significa essere cittadini europei sono la base del processo di costruzione e di integrazione dell'Unione Europea ed è proprio per far conoscere attraverso l'aiuto di immagini storiche non solo l'Europa e l'azione dell'Italia al suo interno, ma soprattutto il valore aggiunto dell'essere cittadini europei che l'atrio della provincia di Chieti ospiterà dal 6 al 15 aprile, la mostra L'Italia in Europa, l'Europa in Italia, storia dell'integrazione europea in 250 scatti. Ad illustrare l'iniziativa, Annalisa Michetti del centro Europe Direct della provincia di Chieti. È una mostra organizzata e allestita dal Dipartimento Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con il nostro ufficio, il centro di informazione Europa Direct della provincia di Chieti. La mostra sta girando all'Italia, è stata presentata a Catania, è passata per Reggio Calabria, è arrivata da noi in Abruzzo e il Dipartimento ha scelto proprio Chieti come città ufficiale in collaborazione proprio con il centro per poter ospitare questa mostra. La mostra è composta da 48 pannelli che parlano proprio dell'integrazione europea, quindi dall'inizio dell'Unione Europea fino ai giorni attuali e ci sono 24 pannelli che affrontano delle tematiche particolari proprio dell'Unione Europea. La mostra dura fino al 15 aprile, è gratuita, è aperta al pubblico dalle 9 alle 18 della sera, i cittadini sono invitati a parteciparla, le scuole possono mettersi in contatto con il centro di informazione Europa Direct per organizzare delle visite. La pagina del calcio torna in campo, la prima divisione con il Lanciano che proverà a battere il Cosenza. In seconda divisione, momento d'oro per il Giulianova pronto alla rincorsa salvezza. Virtus Lanciano pronta al ritorno casalingo dopo i rimpianti di Cava dei Tirreni, una sosta si spera benefica e adesso la necessità di battere il Cosenza per puntare dritto allo scontro diretto di Tarento. Le buone notizie arrivano dall'infermeria con tutti gli effettivi a disposizione di mister Camplone. Turchia ha qualche problema fisico ma per domenica ci sarà, Mammarella, Colombaretti e Volpe non hanno problemi, suo artistico l'unico dubbio anche se non è da escludere una sua convocazione. Da verse di cecco hanno scontato il turno di squalifica e allora via libera la migliore formazione in grado di fiaccare il Cosenza e ridare un senso alla stagione. Il club intanto invita tutti i sostenitori ad incoraggiare la squadra nel momento decisivo della stagione. In seconda divisione si preparano alla domenica calcistica le quattro abruzzesi, Chieti e Celano affronteranno in trasferta San Marino e Prato, mentre l'Aquila torna in casa dopo due trasferte consecutive contro il Bellaria. Alfadini contro un Giulianova in gran salute scende la vicecapolista Carpi. Presidente, il momento è d'oro. Diciamo che il momento è buono, finalmente viviamo i momenti giusti che ci aspettavano perché la squadra è una squadra che non doveva lottare per la retrocessione, per cui ce li godiamo, speriamo che continuino. La cura di Meo, i gol di Margarita, ma è tutto l'organico che ha cominciato a riscoprire quelle qualità necessarie per una squadra che deve salvarsi. Certo, la cura di Meo è importante, soprattutto forse come carattere, come aria nuova, come voglia di fare sicuramente. Poi qualche ragazzo che è tornato è arrivato alla condizione giusta, qualcuno abbiamo recuperato dagli infortuni e poi la convinzione generale, una maggiore attenzione in difesa, perché è quello che forse ci è mancato proprio nella prima parte e i risultati stanno arrivando. Lei come si sente adesso? Dal punto di vista sportivo mi sento sicuramente sollevato. Ci sono ancora i problemi perché purtroppo finanziariamente i problemi in questo momento ci sono. Adesso bisognerà cercare di risolvere quelli di problema. E con il calcio termina anche questa edizione del Tg Max. Grazie per essere rimasti con noi. Arrivederci.